Venerdì mattina a Salerno, presso la sede della provincia, si riunirà il tavolo tecnico contro l'erosione marina nel golfo di Policastro. All'incontro sono stati invitati tutti i sindaci dei comuni costieri di quell'area che dovranno interagire con lo staff tecnico per definire gli interventi da eseguire nell'immediato e quelli da programmare per il futuro partendo dalle cause del grave fenomeno. Sotto accusa in particolar modo il porto di Policastro e il pennello realizzato a Capitello. A batterli sarebbe la soluzione migliore ma chiaramente difficile e complicata da perseguire. Il tavolo tecnico dunque dovrà studiare interventi capaci di mettere a riparo l'intera costa del golfo di Policastro partendo dalla situazione attuale. In questi giorni gli operatori turistici del comune di Vibonati hanno manifestato al sindaco i loro timori per il futuro del comparto. Il tratto di spiaggia a ridosso del litorale di Capitello ad esempio si restringe sempre di più. Il tavolo tecnico in provincia si riunirà a mezzogiorno e vedrà la partecipazione del vicepresidente regionale Fulvio Bonavitacola e del consigliere regionale Franco Piccarone. Entrambi sabato 30 novembre saranno alle 10 presso il cinema Ferrari di Sapri per partecipare al seminario organizzato dalla Rotary Club sul fenomeno erosivo nel golfo di Policastro che vedrà anche la partecipazione del presidente del parco. A relazionare saranno il professor di geografia fisica presso la Federico II di Napoli, Carlo Donnadio e Romeo Toccacieli consulente senior per il piano paesaggistico regionale. Quello che mi aspetto da questo momento, da questo seminario, e questo è il motivo per cui ho invitato anche i sindaci della zona costiera e i rappresentanti della regione che se ne devono fare carico, di dire guardate deve uscire un documento, deve uscire una indicazione precisa che deve essere il punto di partenza per eventuali scelte in materia di erosione.